Allora, niente, è un po' una merda, uno a Roma, grazie dei suggerimenti, allora, dunque, allora, io come cazzo faccio a vedere il cibo di una provincia? Effetti provincia, ah, 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 ok, meno 86, ok, docca andarcene, certo, ok, quella, 157, ok, andate lì, non ho contaccio comunque, ok, questi meno 42, quindi andate giù, 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 ok, questa meno 150, cartaggine, 144, ok, Quindi andiamo qua e maniamo E beh direi eh Poi altri eserciti Questo sta bene Sì Su a Milano No a Milano sta messa male Madonna a meno 268 Quanto cazzo mani Arr Che magliela Quella Quella sta bene Andiamo lì Sì Ah guarda un po' Eeeh Palatina d'elite O dei Non so come si dice Va bene Grazie del consiglio ragazzi Sì sarò onesto Non lo sapevo Non lo sapevo Cioè sì sapevo che ogni provincia C'era il cibo Ma non capisco che cazzo servizio Adesso lo so L'esercito muore solamente Se non c'è il cibo Ok Dunque qui Alexandria non c'è Ma lì sì Zero Ma se c'è nuovo l'esercito C'è Me Me la consuma Guardate no Va bene dai Va bene Ando qua Sto a fare Involtire Le schedeci Quanto cazzo Magliela a Milano Venga porca Puttana Peggio che oggi Stanno a fare Speritiva tutte le ore Eh sì Grano Grano Cambi 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 Gano 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 Cambi 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 Sempre a fare Te fegnacce Mangio mai i sordi Mangio qualcosa Per dire tipo Dio vuole che non mangiate O cose così Non c'è un cazzo Non c'è niente del genere Proprio niente niente Giusto La Spagna La Spagna Ma la Spagna Eeeh Però dopo faccio brutta figura No Senti Non lo fanno Se me lo chiedi vuol dire C'è un cazzo Cazzo Bella puttanata Comunque Delle province C'è Mi potevo risparmiare 30 turni di sofferenza Per l'esercito Di cazzo C'è un esercito di bello Da sua Cazzo C'è Vorrei che mi pia la città Sicuro Dai Mamma che cazzo Me ne frega Queste flotte Da una nave Sono dupe da l'ho Che cazzo Eccoli Immaginavo Senti Vaffanculo Non ce voglio Me la rischio Ho l'esercito in liga Insomma io lo arpio subito Non ce voglio Meno male E' un ruotamento Donna quanti Ah non ho letto Affanculo La dicevo Tu Caricali subito Qua devo riparare No? Non ho scocciato niente? Meglio così Senza dubbio Però Oh Oh avete visto? C'ho il cibo C'ho il cibo Che edificio Emo finito Va vede va Allora che ho guadagnato Quale? Questo? Sì Questo Ah la gente Il campione Ottimo Assali Assalto Disturbo Esercito Chiamano le armi Non c'è a destra Assali Sabota Sabota Assali Assali Offremi Questo Questo Seguro Mi sa che dovevo fare La taverna Vabbè Ora vediamo Dai Questa Insomma Che sia utilissima Adesso Edifici costruiti Io ho Peschereccio 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 Sì, dai famosi pescherecci. E va bene. Tanto mangi un botto. Aspetta, per il momento tutto ciò che non produce cibo è pregato di attendere. Questo poi non dà cibo. Cioè, dà solo soldi, bene. Eh, questo cibo. Sebbene solo 10, comunque sia consuma cibo. Poi, dove si scorre? Ah, il peschereccio. Ah, non l'acquedotto. No, al momento sto a posto. Come che posso fare? L'acquedotto è anche qui. Dico che lo devo fare, ma non... Ok, ok. Ah, ok. Ah, sta cosetta piccola piccola. Dai, vai, vai. L'acquedotto è l'aricoltura. Questa, dai. Oh, si è un po' rigenerato, meno male. Eh, mi sa che... Non consuma cibo. Questo non consuma cibo. Ah, anzitutto andavo in città. Oh, eccola lì. Bovini, bovini. Ah. E' un po' cala, però, vedi? Sta in... E muovite, su. Ok. E quando riguarda gli eserciti, allora... Vedi, questo sta un po' così, se devo ancora arpigliare. Di cazzo c'è una comunque, oh. C'erano un po' troppi, cioè. Cazzo c'è poco tutti questi eserciti, di cazzo. Dovevo anche usarli, cazzo. Giù comandiamo. Spostamose un po' là. Eh, però, vabbè. Non c'avevo un sacerdote in marcia. Ah, c'ho questi qua. Sì, stanno abbastanza contenti. Andate, andiamo là, va. Stanno un po' concazzati. Sì, dai, dai. Oh, guarda qua, che bella roba. Oh. Possibile tintura, pescherecce. Pescherecce, il problema è che, ma, abbassa l'ordine pubblica, bestia. Vabbè, senti un po'. Ah, sì. Non questo, no, quell'altro. Sì, diciamo che è il momento di fare qualcosa. Solo questi? Ma perché? Cazzo. Sto tutto alla destra, a sinistra, per fare. E vabbè. Mi scoccia un po' fa solo questi. Che sto a sviluppare? Che non mi ricordo più. Due turni. Ah, sì, per fare città ancora più grosse. Ma che cazzo c'avevo in testa? Già gliela faccio a mandarene queste, la città più grosse. Ma dai, che cazzo ne so. Quindi pesce e grano le fatti si mangiano. Pesce e grano. Pesce e grano. Chi è il mio alleato? Ma noi i Carmanti. No, aspetta, i Carmanti quali sono? Questi. Porco zingato cane. Non posso declinare. Oddio, potrei anche lasciarlo. Poi metterlo a pigliare con me dopo. Porca puttana. Eh, che cazzo? Mannaggia a me. E quanto c'ho sta idea di merda. Ma manco c'è proprio. Porca madre. E vabbè. E allora si va giù. A meno mi piglio quella città. Però cazzo, vaffanculo. Cazzo, pure da quelli per fare di che la guerra è brutti orientali del cazzo. Porca puttana. Do stanno i Carmanti rispetto a do sto adesso. Che non gli hai dichiarato quella della Spagna? Sì, wow, 500 monete. Ammazza. Hai trovato il banco matto chiuso o cazzo? L'offerta la prendete in contesto per 50.000 monete. Tu dammene 50.000. Oh, tu, sta buono. Artù. Artù, sta buono. Maledetto. E sta fermo, maledetto. Maledizione. Io non ho mai visto uno YouTube interrotto dal gatto. Ah, beh, l'epidemia giustamente. Dopo la fame l'epidemia. Allora. Ah, io c'ho anche... Infatti è una questione al cordo commerciale. Bene, per colpa di quei deficienti... Stupidi da merda. Ho fatto un tempo a disposto quell'esercito. Ma no, ho carmannato indietro. Corri, 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 corri. Non mi ha capo un po' la bestia. Fortuna ce l'ho il lui d'acqua. Vediamo un po' che c'hanno loro, soprattutto. Sede in cazzo. Madonna, che bel esercito pari ho vinto. Disertori legionari del deserto. Ma voi state male. Senti. Due d'uni ho fagato a fatti, cazzo. Vabbè, non do fammi una cosa. Eh, me locca a sbrigarmi. Me lo so sbrigarmi. Dai, basta, tutti i coglioni. Forza. Mi piglio sta bella provincia e va a fangulo. Allora, qui che ci abbiamo? Voglio farli stati tranquilli questi, però. Cinque, sette, due, tre. Eh, no, meglio questa. Poi. Senti, ma se faccio venire giù un esercito da su? Vedi che è tanto grave come cosa? Chiamo un po' di rinforzi all'Italia. Non è male, secondo me, come idea, eh. No, quello lo lasciamo lì, che mi serve. Eh, vaffanculo. Eh, mi sa quelli del cibo lo fatti tutti. Ah, eccone uno. Bene. Allora, dicevo tu. Sarà il caso che... Tenta, sette. Eh, mi sa che sbuca qui la di volta, eh. Va bene. Va bene. Poi. Sono attentatissimo di chiaglie guerra a questi. Sto punto, regà. C'erano tutti i secci del merda. Attentatissimo. Quasi, quasi. Sti cazzi. Sono molto tentato. Ah, gli eserciti ce l'ho anzitutto, scusa, fammeli vedere. E va bene. E questi cento addirittura, eh, stanno come picchi. Veramente, eh. Eh, qua volevo... Forse ho fatto male due eserciti, sono un po' tanti, io. Però... Forse due non vi trovo via. Però potrei andare giù, conquistare un po' le penisole ad Abbi, che cazzo ne so. Egitto. Ma, se mi giro me lo magno l'Egitto, ma che cazzo ne so. Più tutta la provincia. Ma che voglio via me. Tutta sta belle provincia qua, dai. Mi piace. Ah, bello un decedote, meno male. Poggio vincello. Se no mi schietta subito. Mi pare basti così, dai. Sono indeciso qua se dichiargli quella o no a quelli. Boh. Mi sembra un po' l'infamata. Ma, mi sa no, non c'avrei... Non c'avrei sti grandi vantaggi. Va bene. Senti, ma a Milano stanno incazzati o no? Sta a scendere, ma non stanno incazzati. Senti, ma a Milano 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 stanno incazzati. ci mancano i carmanti adesso porca puttana moco spostato tutte le tappe assiando cazzo lo posto in palestina la chi è l'ho detto e l'ho detto detto ma no ma dopo tutti questi anni siamo stati amici non gradisce domani l'occidente si sente personalmente offeso che cazzo ha detto niente poi da che religione c'è il tenguerismo so 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 fottuto so 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 fottuto ma che cazzo me l'ho fatto fando aiuto quelli stronzito niente di merda che mi passano a bucciarsi tutta costantinopoli la mia costantino adesso la capitale per bisaggio la chiamo costantinopoli te chiamavi stronzonio stronzinopoli che cazzo facevi costantino ma non è che per caso il principio del cristianesimo cozza con tutti quelli che hanno detto mille che cazzo c'è si dai uno e meno no aspetta un momento erano quelli che che sto per mangiare no mi sono fatto una puttanata non mi ricordo no vogliono i ribelli vabbè senti adesso mi riattacco ma mi sa che mi dobbiamo fare un turno indietro con la moto mi sa che mo so cazzi so cazzi a ragazzi e mo so cazzi tua ma l'altra borda ancora voi sei un ninja tempo la perde ecco eh c'è gente che lavora qui per favore grazie ah ragazzi se volessi mai c'è sono andati subito vabbè un giovane viaggiatore diceva aver avuto una missione mentre camminava tra la natura buon per lui vabbè uno è andato in botta e c'ho e c'ho la visione sembra giusto dai meglio così ok allora fermi una cosa per volta e poi c'è negoziata un cazzo poi c'è negoziata no no ok questi sono i belli ok vabbè ne vediamo un po' si dai questa qui e vabbè e tu stai qui ah è un po' che difficile no la chiesa va di arcale greca no la chiesa va di arcale greca tu inizia a praticare dai poi youtube anche tu e falli sticata fatti dai poi poi passo accelerato si si vai no siamo giunti anche noi ingresi in egitto no si salite livello è bravo cibo e integra dai comunque si è meglio che tu amico mio ti armi forse un po' più si anzi sono unito e merda a me può fare un po' di lanceri va ma che posso fare ah si a quattro mmm tanto guardate non mi aumenta la guarnigione che inculata rimane uguale ah no aumenta uno di legge con mina wow capirai ah è uno dei sagittari che spreco che è vai vai cambia amico mio allora eh no meglio fa un po' dei militari eh si mi sa che spendo 10.000 e faccio questa ce li investo solo città non mi interessano solo città non mi interessano mmm eh lo so ma vuole tanto prendo prendo troppo fanno i campi intanto va ah non è manco l'ultimo il porto eh a voglia eh qui posso fare qualcosa mi posta tutto famo una taverna dai che cazzo di legione ci sta Siracusa? il tengrismo ma come cazzo è venuto a mettere il tengrismo raga forse perché ma perché stanno sti due stronzi cazzo raga ma state veramente anche delle fegnacce che ve raccontano non lo so non lo so ma non lo so no lo so cazzo cacaca, 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 zona, zona, zona... donna e non vuoi far ma che roba che capolavoro si sono fatti conquistati so fatti distruggere tipo quattro legioni dei sasaniti ma io che per chi cazzo sto a combattere ma io mi sa che buon figlio conquisto quelle due città e me ne vado me ne tengo se riesco a difendere bene ma mi sa che ogni tuo cazzo sono arrivati io portate un po via sti stronzi ma quella la voglio io è bella cosa la città me la prendo volentieri serratisti no grazie molto gentili se fate anche esercizi più grossi delle unità sarebbe fantastico e su ma a me che cazzo me ne frega ecco allora quella l'ho fatta ottimo adesso che faccio no questa è per la cavalleria tutto cavalleria e vabbè faremo tutto cavalleria si dai allora buoni 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 una cosa alla volta prima le cose serie me ne so portare due apposta ma c'è poche perdite se permetti se permetti non è più la città ed è un po' va e butta giù sta roba questo lo tengo dai le termine teniamo ed è un po' va senti ma tende possa ammazzare successo quindi l'ho ucciso grande disturba la purificio no questo no no aspetta ma che cazzo amo questi ottimo poi tornando a noi oh si è fatto un livellino il nabbetto tu rimettite normale e preparate che andiamo in guerra amico mio oh guarda lì ah giusto si potenziano quella quella cosa lì la fortezza oh qui non c'è niente a distanza me ne mette uno dai ora che ho potenziato ho sbagliato ah giusto no in questo ok poi detto ciò oh che è avuta sta roba a tavenna vabbè a parte le città vabbè ne ho capito ma la città non lo posso fare comunque si arriverà da qui attila quindi ma tutto peschereggio ce l'è muo cazzo camboglia dunad cavalleria famone due va ah non ne posso fare due cazzo non lo cambi nel dubbio ok nel dubbio no quella no anche se mi piacerebbe famo sto pellaio ho duemila turni che lo voglio fa fammi capire scusa eh tutto tutto lì se le livelle va vabbè sentimi tutti i coglioni fa il cazzo che te pare dicevo allora guardi palatine ah diventi il generale viene potenziato bene lo testeremo contro sti po' di stronzi ok ah mi sembra di eh si tutti forte eh questo è proprio uno spreco qua ah questo anche questi palatine a giusto da già uscita vediamo fine i soldi al prossimo mi sa basta direi edifici costruiti che c'ho schede ah ma già c'è il mercato alimentare cazzo non l'ho butto giù dai che cazzo ci fa o dufodi mi sa che la fantaia è tutta al massimo perché con i rimasti sono tutte per la cavalleria volentieri io faccio la guerra con l'impevo la pace con l'impevo sanite se non ti sta bene non diventare del cazzo fatelo risolverla solo e se mi girano i coglioni faccio anche pace con i carmanti si 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 mi fa mi fa un bacio con tutti quanti si cazzo cazzo tu hai udiente buona fortuna no vedi spati ah oh lì ho visto un'esercione gigante Alessandria Eh guarda che roba Molto meglio no? Ah lo ricevo Axum oddio Magari ci riesco a dichiarare E dai Grande amici come prima eh Ispiro la popolazione Diffondi la religione Queste volevo Ah che prudito Bene noi stiamo tutti in pace Quindi abbiamo bisogno di ammazzarvi Fa piacere Che è sta roba Converti tutto Siamo cibo c'è un po' Toppo eh Corpo di guardia dai Eh Guarda voi state qui Di guarnigione Quindi tutte ste Tuppe Non vi serviranno Dicevo Faccio la pace Con i garmanti Certo vedo È una provincia intera eh Ci penso dai No finalmente Ah giusto Vediamo un po' C'è qua qualcuna potenzia Tu Tu Non so se no Non so se no Però forse ce n'era uno Non so se fosse questo Era questo No Sì Sì Questo qui Ok Ah l'affare di stato Quel cazzo vuole Un promettente Giovane di gladiatori Sono tutti E già Come si chiede Dai E' be' quello Ma sai che posso Mettere un governatore In più No Mettiamo in Egitto No A carteggine Ah ho aggiunto Il numero massimo Che palle Ah guarda un po' E dopo qualcosa Costruisco Dai Il piombo Per la cloaca Va bene Il governatore No? Sì Assicuramento No Aspetta No Spesso Comincio Governata Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Oh, che cazzo? Ah, gli uni! Dove sono gli uni? Perché ci mette così tanto a fa'l turno? Stanno gli uni, stanno gli uni, sono fottuto. Eccoli, il primo agente, eccolo! Devo portare più tu per là! Stanno lontanini, non so... Non so... Non so... adesso eh vaffanculo successo ovviamente i popoli di questa terra sono dei direzzi nostri in nome di Zeus Alexandria ma la buona i miei vici costruiti allora andiamo un po' fermi tutti per favore per favore fermi tutti eh mi sa che vedo le mani ok oh chi è questo Axon ok ok eccoli cazzo eh carica 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 che caga sotto che so vabbè ecco qua prego magari i miei sottoposti mamma mamma mai le fatto giro i coglioni non la trova inna quanta roba si alla fine è tutta eh questa può essere utile via come è governatore carpintiere anfiteato facciamo un bel tempo per tenere di buoni dai il mercato alimentare l'ho sbloccato però mi diminuisce però va a far culo bene via e basta così però anche qua se non sbaglio c'è qualcosa a costruire no? si eh boh le fogne tenute facciamo a te da frontiere dai poi qui non ci abbiamo ribellione in momento no qua neanche ok questi mi saranno riporto giù a Milano boh guarda dove ne muore lì dai oddio stanno proprio porca puttana bella puttanata che hai fatto fargli proprio crevare freddo porca puttana eh vabbè oh che cazzo è successo qua guarda quanto del cazzo mi ha fatto quel pezzo di merda e via a singolare da quel bastardo oh mamma quanto cazzo mi manca insomma 425 ok ancora 3 anni 80 insediamenti 69 mannaggia non c'ho dovuto farne quello oddio ah poi 69 considerando l'impero umano d'oriente quindi se perdo l'alleanza sono proprio fottuto ma qui non posso dichiarare a guarda a nessuno tipo quello ecco per esempio quello se mi prendo la provincia il cazzo mi cambia penso niente va bene basta anche perché guarda un po' che roba c'è le gemme oh si muove io vaffanculo i belli in basso non hanno niente meno che un cazzo vabbè le santi stanno a fare un bel tempio qui mandiamo anche occhiacoli i carmanti e ci maniamo mi sa basta dai va bene basta così è bene ma non benissimo morti alcuni problemi ne sono sorti altri e va bene via alla fine comunque se sta un po' a il gioco sta molto a le fazzini piccole scomparsi rimangono solo i grossi imperi eh insomma ma vediamo un po' io col sasani ti ho fatto pace cazzi tuoi mi sono trotto i coglioni sta a giocarmi il culo per te questo però che cazzo gli faccio fare vatti finire fino qua no questi ok questi ah no questo non è mio chi è la sputin lo stregone dove sta l'esercito cazzo ce l'ho fatto rintornare no volevo fare l'attacca a quello ah la giudea ma solo quello vediamo un po' scusa si allora mi sa che è buono magna si intanto fa una cosa vedete va mi sa che il prossimo torno se la maniamo va bene va bene va bene siete percale ma è getusalemme con il numeratino ah o è questa no sarà questa va bene dai carpentieri certo non è che serve tanto quasi quasi ma che ci fa un fatti buttalo giù dai va unite merda comunque unite merda unite merda